Le elezioni per il rinnovo dei consigli provinciali potrebbero slittare. L'emergenza Covid, ancora una volta, impone un'attenta riflessione sulla possibilità o meno di svolgere regolarmente le attività elettorali, seppur, per ciò che riguarda la provincia, è un evento che interessa soltanto sindaci e consiglieri comunali chiamati a scegliere i rappresentanti in seno all'ente. La decisione definitiva ed ufficiale potrebbe arrivare nelle prossime ore con il rinvio della tornata elettorale che potrebbe avvenire per tutte le province interessate nella prossima primavera, quando, si spera, l'emergenza epidemiologica sia superata e lo svolgimento della tornata elettorale può avvenire regolarmente. La richiesta arriva con emendamento al decreto legge del 7 ottobre scorso proposto dalla senatrice Valente in discussione nella Commissione Affari Istituzionali del Senato, in cui si fa esplicito riferimento proprio alle elezioni provinciali di secondo livello. Il rinvio era stato già ipotizzato ed inserito nel decreto, che però, proprio sul punto, è stato poi modificato. Immediatamente è stato riproposto per l'inserimento. Il rinvio potrebbe essere approvato già nelle prossime ore, essendo al momento anche al vaglio del Consiglio dei Ministri, che a breve potrebbe pronunciarsi. Il posticipo della data, che pare sia fissata al 28 marzo prossimo, interesserebbe tutti i consigli provinciali e l'urgenza è motivata dalla data, ormai prossima, delle elezioni di alcuni consigli provinciali, tra cui Avellino, che dovrebbe votare il 13 dicembre. Se il rinvio viene confermato, l'attuale Consiglio provinciale di Salerno resterà in carica per due mesi in più rispetto alla naturale scadenza. Consiglieri comunali e sindaci salernitani sarebbero stati chiamati al voto nei primi giorni di febbraio. Ora tutto potrebbe slittare.